Buonasera ad Alessandra Buccia, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura ai mondiali 2014 l'Italia è fuori, grande delusione anche tra i tifosi baresi. Gli azzurri sconfitti per 1-0 contro l'Uruguay, decisivo il gol di Godin all'81esimo. Anche Bari ha seguito la partita con il fiato sospeso e la città si è fermata per assistere alla sfida decisiva. Grande delusione per i tanti baresi che si sono raccolti in casa e nei bar, soprattutto nel centro cittadino. Per accedere agli ottavi sarebbe bastato un pareggio, un risultato che però non è arrivato per gli azzurri di Prandelli. Al 71esimo il CT ha schierato anche Antonio Cassano al posto di Ciro Immobile, vince però l'Uruguay e l'Italia. Torna a casa. Passiamo alla politica. Tra le prime mosse del sindaco di Bali potrebbe esserci la pedonalizzazione dell'area antistante della chiesa Redentore. I dettagli del progetto e la cronaca della prima mattinata da sindaco di Antonio De Caro nel servizio di Serena Lusso. Antonio De Caro torna al suo primo amore. Tra i primi atti del nuovo sindaco infatti potrebbe esserci la pedonalizzazione dell'area antistante della chiesa Redentore nel quartiere Libertà. Nulla di certo per ora, solo uno studio di fattibilità. Ma questa mattina tecnici del comune, dell'Antab e della polizia municipale erano già sul posto per un primo sopralluogo. La chiusura dovrebbe riguardare l'ultimo isolato di via Crisanzio e la porzione di strada che la collega via Nicolai. In questo modo, ha spiegato il sindaco, si andrebbe a ridurre notevolmente il rischio di incidenti per i bambini che escono da scuola e per le persone che frequentano la parrocchia. Ma per un problema che si risolve ce n'è un altro che se ne crea. Parliamo dei parcheggi. Quelli persi sarebbero circa una quarantina da recuperare eventualmente nell'ultimo tratto di via Martiri d'Otranto e su Corso Italia con un sistema di sosta a spina di pesce. Prevista anche una piccola rotatoria nell'incrocio tra via Crisanzio, via Petrelli e via Libertà. Piccole modifiche anche sul tragitto del bus numero 7. Potremmo anche considerare l'ipotesi di sponsor, ha spiegato il sindaco, per il reperimento dei fondi. In cima alla lista dei papabili, il regista Gennaro Nunziante, da sempre attento alle sorti del quartiere. Ma la mattinata del primo cittadino non è certo finita qui. Effettuata la visita istituzionale alla Corte dei Conti, De Caro ha anche incontrato a Palazzo di Città alcune famiglie. Per risolvere il problema dell'emergenza abitativa. La prima giornata di Antonio De Caro sindaco, cosa ha fatto stamattina? Abbiamo fatto un incontro istituzionale con il presidente della Corte dei Conti. Ho incontrato alcune famiglie qui al Comune. Adesso abbiamo appena terminato una riunione per la pedonalizzazione di un'area, un'eventuale pedonalizzazione di un'area nel quartiere Libertà, vicino alla Chiesa del Redentore. Adesso continuiamo a fare gli incontri con i dirigenti per le questioni legate ai lavori pubblici, in particolare al bilancio che dobbiamo portare in Consiglio Comunale, non appena sarà proclamato il Consiglio. Per quanto riguarda la Giunta che punto siamo? Per quanto riguarda la Giunta ho detto già ieri che ho ascoltato i partiti, le associazioni, una parte anche dei sindacati. Sto proseguendo la fase di ascolto, per qualche partito è il secondo incontro e nei prossimi giorni decido. E lo avete sentito, continua il totonomi sulla Giunta De Caro. Lavori pubblici e urbanistica, sarebbero queste le caselle ancora vuote nella composizione della Giunta De Caro. Servono persone di altissimo profilo, ha detto questa mattina il sindaco. Non posso rischiare di dover procedere al rimpasto nel giro di pochi mesi. Figure strategiche quindi ancora da individuare, per cui il primo cittadino si concederà ancora qualche ora. Intanto proseguono le consultazioni. Ed è polemica sul nuovo incarico del sindaco uscente Michele Emiliano, che ieri ha annunciato di aver accettato la nomina di assessore alla legalità da parte del comune di San Severo. Si scatenano i commenti sui social network, su Twitter rinfocato botte e risposta tra Emiliano e il presidente della BAT, Francesco Ventola. Cosa non si fa pur di non lavorare il commento sarcastico di Ventola, vergognati, barzelletta e la replica di Emiliano. Censimento delle attività dei docenti, monitoraggio costante dei lavori e punizione per gli inattivi. La ricetta del rettore Antonio Ricchio, che per rispondere alla classifica del sole 24 ore, che assegna all'Università di Bari uno scomodo 57esimo posto per didattica e ricerca. Intanto questa mattina la firma di un protocollo d'intesa. Sentiamo l'intervista. Questa mattina la firma del protocollo d'intesa. Di cosa si tratta? Un protocollo d'intesa tra la nostra Università e la Scuola Superiore della Giustizia argentina. È venuta la presidente Claudia Muzavac e con lei abbiamo definito un percorso di collaborazione, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria internazionale. L'Università di Bari non si butta giù dopo la classifica pubblicata ieri dal sole 24 ore, che consegna all'Atene Pugliesi, come fa una lina di quoda tra quelli nazionali? Proprio ieri abbiamo avuto anche un importante riconoscimento. Il professor Moschetta ha vinto questo premio internazionale per quanto riguarda la medicina. Qualche giorno fa i nostri fisici sanitari hanno avuto un altro premio importante ad Harvard. Io credo che l'Università di Bari abbia tante eccellenze e che forse le classifiche andrebbero in qualche modo analizzate. In particolar modo quelle che riguardano la didattica ci vedono collocati abbastanza bene, quindi significa che il gradimento degli studenti in ordine alle attività formative esiste ed è anche riconosciuto. Per quanto riguarda la ricerca, già l'ANVUR nella valutazione della qualità della ricerca l'anno scorso ci aveva collocati in una fascia intermedia. Quest'ultima classifica, che non sappiamo come sia stata fatta perché di fatto smettisce anche i dati dell'ANVUR, ci colloca ancora più in basso. Noi però stiamo avviando un'attività molto intensa su questo fronte, soprattutto per censire l'attività di ricerca di tutto il corpo docente. attraverso un nuovo sistema che prende il nome di YouGov e soprattutto potremo monitorare periodicamente le attività svolte e invece poi adottare le forme, tra virgolette, anche punitive nei confronti di docenti inattivi. Consegnate questo pomeriggio nella sala consigliare di Palazzo di Città dal sindaco Antonio De Caro le borse di studio destinate agli studenti di scuola media e di secondo grado e laureati che hanno elaborato tesi di laurea su tematiche legate alla città di Bari. 12 borse di studio da 1.500 euro ciascuna per giovani laureati nell'anno accademico 2010-2011 e 50 da 258 in favore dei studenti appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate che nell'anno scolastico 2011-2012 hanno frequentato le scuole medie superiori statali o parificate di Bari. Molti dei lavori premiati riguardano questioni legate alla rigenerazione urbana e alla ricuscitura sociale e territoriale dei quartieri periferici. Nei prossimi anni, anticipato il sindaco, cercheremo di inserire nel bando di concorso maggiori specifiche sui temi da analizzare nei lavori di tesi in modo da rendere subito utilizzabili gli elaborati realizzando dei progetti sperimentali per la città. Voltiamo pagina. Con il 21 giugno è iniziata ufficialmente la stagione calda. Temperature bollenti in città per un'andata di calore che non sarà l'unica di quest'estate 2014. Ci sentiamo. Oggi è la giornata più calda d'Italia e Bari con 36 gradi. Come pronosticato nei giorni scorsi, l'ondata di calore è arrivata facendo schizzare la colonina di mercurio fino a 36 gradi. Sembrano dunque confermate le previsioni a lungo termine che avevano preannunciato temperature bollenti dopo la fase fresca e instabile condita da temporali dei giorni scorsi. Ma la stagione delle piogge non è ancora archiviata. Nei prossimi giorni potremo dover fare i conti con qualche rovescio. Quindi una Puglia un po' bollente direi. Anche domani giornata di giovedì sempre venti a carattere sciroccali. Domani qualche temporale per il passaggio di una velocissima perturbazione atlantica. E poi finalmente arriva l'amico maestrale che da giovedì sera a venerdì abbatterà senz'altro le temperature per un poi splendido fine settimana. Il caldo eccessivo si sa è nemico di anziani, bambini e persone affette da patologie gravi. Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già stilato un va-de-mecum per difendersi dalle elevate temperature. Dieci semplici regole comportamentali in grado di limitare l'esposizione e le alte temperature. Evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili. L'aria condizionata ad esempio deve essere regolata su una temperatura tra i 24 e i 26 gradi. Bere ovviamente molta acqua e preferire pasti leggeri. Occhio anche alla conservazione degli alimenti che non vanno lasciati all'aperto per più di due ore. E per ridurre la temperatura corporea può essere utile fare bagni o docce con acqua tiepida. In caso di caldo particolarmente intenso può essere utile porre un panno bagnato sulla nuca. Rimedi utili contro le ondate di calore che patiremo in quest'estate perché stando alle statistiche sono in salita le quotazioni per un rialzo termico che toccherà il muro dei 40 gradi tra luglio e agosto. Quest'anno invece avremo temperature un po' alte, almeno secondo gli studi americani. Due ondate di calore orientativamente, però è chiaro stiamo scherzando con la statistica e la climatologia. Dovremmo avere, dicevo, due ondate di calore attorno ai 40-43 gradi con venti a caratteri scirocali, gran tasso di umidità. Soltanto quando avremo queste occasioni, queste circostanze, cioè venti a caratteri scirocali, tasso di umidità abbastanza alto e campo di altre pressioni molto alto, allora avremo il famoso favonio e ondate di calore. Allora ci dobbiamo preoccupare, altrimenti mi auguro che sia una splendida e meravigliosa estate.